buonasera a tutti sono luigio neracu se preferite benvenuto a questo nuovo doc flash news tanta tanta carne al fuoco e dio si è ringraziato dopo quasi tre anni di gioco una delle domande che più ci siamo fatti ancora peggio di quando esce vegetal r che comunque è in uscita dopo domani ovvero quando mettono tapio è finalmente risolta tapio esce il 19 mattina verso le 9 barra 10 non abbiamo ancora risposte però ad alcuni quesiti che lascia l'arrivo di tapio andiamo con ordine annunciato un login bonus per natale prima volta che il giap lo fa il giap non se ne è mai fregato molto di natale ma a quanto pare c'è sempre la prima volta login bonus di natale che inizierà stasera alle 20 quindi inizierà il login bonus avremo un boost di stone il 23 24 25 avremo una nuova red dragon stone ragazzi consiglio a tutti quelli che possono portare a livello 140 e anche quelli che magari per ora non ce la fanno a portarlo di prendere goku super sean 3 agl salvo non abbiano un extreme fisico fantastico e allora mirate a fpf vedremo dovrebbero darci in totale una ventina 25 dragon stone questo login bonus arriva fino al 28 quindi il 28 comunque aspettatevi una sottospecie di festo roba simile anche perché come vedremo quello di tapio non è un campest infatti abbiamo un ollie dragon carnival ovvero un racing dragon tapio sarà un pg racing dragon ogni multi in questo racing dragon ci darà due old kai santaroshi e non vi so dire se convenga pullarci o no personalmente qualche pool ce lo farò è comunque un pg candela tour c'è un 50 stamina dedicato ci sono dentro le lr anche cosa che mi ha letta abbastanza però non so dirvi a oggi se vale la pena pullarci aspettate questo uno di quei festi in cui davvero consiglio aspettate che esca aspettate il 20 che faccio anche l'analisi e tutto non ci sono info su tapio non si sa davvero poco un pg che ha tantissime potenzialità per alcuni aspetti però allo stesso tempo è molto in dubbio quanto può essere utile sembra molto un secondo mars cad saian quindi un secondo pg che si potrà ottenere ovunque magari sarà esclusiva dei racing dragon ma comunque ce ne saranno in futuro quindi aspettiamo questo mese a quanto pare non esce un lr nuova ma fanno questa cosa qua avremo poi di nuovo la stone rossa e la stone blu la blu sarà shoppabile penso a 30 euro a partire da oggi meglio di nulla il 19 con l'arrivo di questo holy dragon carnival avremo anche l'evento di irdegarn che avrà una particolarità insieme all'evento uscirà anche uno story event nuovo in cui penso si potrà farmare un tapio un free to play per aumentare facilmente lsa del pullabile e pare che verrà droppato un oggetto utile nel 50 stamina che questo oggetto sia solo utile sia necessario ancora non lo sappiamo però è una è una piccola innovazione che di sicuro non mi fa schifo farmiamoci le due copie perché alla fine non è che ne servano più di tante di questo oggetto e poi andiamo a vedere se questo evento è fattibile naturalmente cercherò di portarlo anche senza l'oggetto prendersi magari da quella sfida in più se vi chiedete che cosa può servire basta usare un attimo la testa la fase finale sarà probabilmente contro irdegard forse sarà tutto il 50 stamina solo contro irdegard secondo me avrà una difesa e un no anzi mi correggo una riduzione del danno esagerata farà danni esagerati e usando questo oggetto avrete toto turni in cui invece più tranquillo fa meno danni e dovrete imparare a gestirvelo non dico che senza l'oggetto sia impossibile però potrebbe essere davvero la sfida non docker road che ci potete che ci aspettavamo per il resto ci sono pochissime cose abbiamo il ritorno dell'evento di bojack di tarles e di cooler quindi niente di che non ci sono veri e propri altre info ci sono alcune cose strane però la prima cosa strana è che è tapion irdegard il pg quindi probabilmente atur diventa irdegard questo può voler dire molte cose può essere il primo super a diventare extreme evolvendosi può avere la meccanica grande scimmia può avere la meccanica della fury di virus oppure durante la special esce irdegard sono centomila cose può essere un class leader può essere leader globale davvero questo tapion lo possono fare più o meno come cavolo vogliono è presente anche un altro ssr barra sr ovvero il fratello di tapion nel banner vi dico subito che non avranno rate bellissimi essendo un racing dragon avremo il 20 per cento di ssr da un lato ma dall'altro tantissimi pg ma davvero tantissimi quindi dovrebbe avere circa lo 0.3 0.5 per cento ora non ricordo se ci sono i rising di solito su dock and stats penso di sì per darvi un attimo un'idea di quanto potrebbe essere se ci sono ci sono ti vedo Renato vediamo quanto può essere più o meno il rate del pg allora 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 eccolo qua il rising vediamo un pochino vado al rising vecchissimo in cui è stato inserito mighty mask a gl abbiamo il 20 per cento no col cavolo col cavolo abbiamo rate anche dell'1 per cento quindi in media con 500 stone se questi saranno i rate vi ci si porta a casa tapion davvero buono come rate e avrete anche le possibilità di portarvi a casa dell'LR rimane il punto di domanda famosissimo ragazzi e varrà la pena il pg questo soltanto il tempo ce lo potrà dire di sicuro almeno 3 4 multi poi nel caso come vi ho detto arrivano le donazioni potrei portarci anche proprio un video pool quindi è una batch che mi interessa magari finalmente potrò trovare un lr dato che oltre broli non so neanche come siano fatte però vediamo 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 oltre questo non c'è davvero niente altro a dire salvo cosa è stato annunciato nel v jump è uscito il v jump con qualche giorno d'anticipo io me lo aspettavo sto fine settimana non hanno annunciato dock an event né altre cose ci hanno detto che per la fine dell'anno ci regaleranno una c18 tanabata ovvero con il kimono da fine dell'anno fisica quando si vogliono le waifu le waifu si hanno avrei preferito videl però non si può aver tutto dalla vita carina fisica sarà free to play non aspettiamoci niente di che ma l'importante è che sia un pg carino e ci sarà la nuova leggendari campaign dopo quella di goku si pensava sarebbe uscito freezer e invece faranno uscire gli androidi faranno uscire gli androidi non ci sono old kai a sto giro pare ci saranno stone le orb e poi anche un aumento del team cost se visto vedremo un pochino le missioni saranno le solite avere gli androidi livello massimo averli full ability averli sa 20 probabilmente naturalmente molto più semplice soprattutto con le novità della 3.0.2 dove i vecchi 40 stamina iniziano a droppare un numero più decente di metaglie possono dropparne anche 4 quindi si velocizza davvero molto il farming per portarvi le copie io personalmente ho già le 4 copie pronte che devono semplicemente andare a UR e poi potrò dando due clessidre avere gli ability full ho già da parte abbastanza orb sarà aperto l'evento delle orb giornalmente per dare il boost abbiamo l'evento delle orb finalmente migliorato 10 volte superiore addirittura a quello global per capire quanto è stato migliorato quindi siamo a posto con le orb vita natural durante e vediamo ragazzi questo di sicuro per molti sarà una batch trappola per i free to play questo rising dragon è una trappola assurda ricordiamoci che il 28 dovrebbe uscire una batch con molti class leader dentro quindi occhio però scongiura anche il fatto che posso uscire un dockham fest il 28 dato che oddio in realtà non scongiura un emerito nulla perché questo non è un dockham fest però la logica vi fa dire che non dovrebbe uscire comunque se volete pullare vi consiglio di non spendere eccessivamente perché ok pg tutti vogliono perché tapion è tapion è figo tapion va bene tutto ma sappiamo davvero poco si dice class leader dei mu degli oavi però è esagerato class leader degli oavi è qualcosa davvero grosso e utilizzabile anche se come lr a rigor di logica avrebbe bojack e broli buona neanche troppe lr decenti perché broli picchi picchi quindi state attenti se volete utilizzare molte stone vi consiglio di acquistarle link in descrizione come al solito però non è una batch che consiglio completamente a oggi se poi all'uscita vediamo che ha pochi pg rate up tapion al 2.5 per cento di rate le lr hanno uno 0.1 per cento oddio no si si 0.1 per cento è la ragazzi spendete tutto quanto vi portate a casa almeno un lr si spera e potete portare a casa anche altra roba detto questo vi ringrazio più tardi uscirà una run forse già uscita non so bene come andrà stiamo preparando una cosa carina per la rush con super saian 3 vi dico solo un nome per far capire con chi farò questo video feliciano fammi capire cosa possa essere l'idea io mi sono abbastanza ripreso domani torno a lavoro quindi domani quindi il torneo io oltre oggi non lo farò praticamente più quindi buonanotte 30 milioni ma vabbè non è che ci perdo più di tanto spero di riuscire a portare entro fine di questa settimana il team super saian 3 lo spero perché così cerchiamo di recuperare un pochino perché sono un po' indietro con alcuni video questa febbre non ci voleva e noi ci vediamo al prossimo video buona giornata buona serata e finalmente 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 è arrivato questo cavolo di tapio marrotino si e poi appare anche misteriosamente blasi che mi lasciamo perdere ultima cosa che mi sono dimenticato è una traduzione che ho fatto io potrei sbagliarmi potrei sbagliarmi ma pare che si potrà scegliere anche una persona nella propria lista amici per fargli un regalo non sono sicuro al 100% di sta cosa non ne sono sicuro però c'è anche questa scritta posso sbagliare la traduzione vedremo già a partire da questa sera quali sono le novità blasi almeno fa un saluto dato che sei apparso dal nulla e si è buttato ciao ecco alla prossima ragazzi ciao ecco anche feliciato felicità